Il fragolino! Che cos'è il fragolino? Allora, l'abbiamo abbinato allo strudel che poco prima abbiamo presentato ed è un vinetto da dessert abbastanza dolce con le uve fragoline è sempre prodotto in tranquillo, in questo caso questo è delle terre del sole, è prodotto invece nel brevigiano ed è un vino da dessert abbastanza dolce da minare al nostro strudel che precedentemente, che Michele non ha E io non assaggiamo, quindi adesso che facciamo, stappiamo il fragolino e ci mangiamo lo strudelino Ok, ok, ciao Nino!